Intanto io vorrei vedere un testo definitivo sul quale poter ragionare, poi vorrei capire se i tempi che ci ha annunciato sabato in Assemblea Nazionale il segretario saranno rispettati e infine vorrei capire qual è l'obiettivo finale del Partito Democratico. Io voglio capire se l'obiettivo del PD è quello di arrivare al matrimonio ugualitario e quindi questo è un passo per arrivare al matrimonio ugualitario oppure se ci si ferma poi lì, perché se ci si ferma poi alle unioni civili io non sono soddisfatto e per me non è sufficiente.